buona giornata amici di fano tv oggi è martedì 3 gennaio 2023 bentrovati alla rassegna stampa leggeremo insieme le notizie del giorno a partire dal Corriere Adriatico e dall'alesto del Carlino intanto passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia il santissimo nome di Gesù Gesù che vuol dire salvatore salvatore è un nome è ancora piuttosto diffuso nelle regioni del sud ma non solo la devozione al nome di Gesù fu divulgata dai francescani e dai gesuiti in modo particolare da San Bernardino da Siena ebbene la invocazione al nome di Gesù è una invocazione che si ritira in molte preghiere della chiesa cattolica passiamo ora alle previsioni del tempo e vediamo che sulle Marche in modo particolare sulla nostra provincia ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati e proveranno da sud ovest al pomeriggio una tensione debole da nord nord ovest il mare è quasi calmo e le temperature si aggireranno da una minima di 7 gradi a una massima di 13 gradi ed ora apriamo il giornale sul resto del Carlino vediamo l'apertura si parla di un'associazione benemerita un'associazione che per tutto l'anno si impegna per aiutare i paesi più poveri dell'Africa Zambia Tanzania Kenya Africa Chiama festeggia il primo nato nel centro maternità fatto dai fanesi il vagito di un maschietto inaugurato la struttura costruita in Zambia grazie all'impegno dell'associazione per questo progetto l'attrice Eva Grimaldi aveva devoluto i soldi ricevuti per le sue nozze con in battaglia fu un atto di generosità che ebbe un momento culminante proprio a Fano nella nostra città tra queste rocce sbocceranno fiori lo aveva pronosticato Italo Nannini Italo Nannini morto nel 2020 non ha visto la realizzazione di questo sogno ma in realtà coloro che hanno preso la sua eredità un'eredità impegnativa lo hanno realizzato in meno di tre anni in tre anni è nato un ospedale un centro nascita un centro dove nascono i bambini in una località sperduta appunto in Zambia si tratta del terreno roccioso di Cagnama roccioso perché poi sono nati i fiori il centro si chiama Shalom è nato un bel bambino un bel maschietto ancora non si sa il nome perché le tradizioni locali impongono il nome dopo alcune dopo alcune settimane dalla nascita comunque questo ha riempito di soddisfazione tutti coloro che si impegnano per aiutare queste popolazioni che soffrono la fame sono soggette a malattie non hanno i mezzi per curarsi e avere un ospedale invece che partorire in casa con tutti i rischi che questo comporta costituisce veramente un indice di salvezza Africa chiama festeggia il primo nato invece qua vediamo una partenza a fondo pagina Anastasia la mamma e il figlio rientrati in Ucraina anche Elina la mamma di Anastasia e il nipotino sono tornati a Usorod dove la settimana scorsa era trasferita la salma appunto della donna vittima di femminicidio mamma Elina e il nipotino di due anni lasceranno oggi Fano la madre di Anastasia la giovane ucraina di 23 anni uccisa dal marito il 14 novembre scorso riparte questa mattina per la località d'origine in Ucraina una città al confine con la Slovacchia e l'Ungheria dove vive la famiglia e dove è stata seppellita la giovane mamma nella scorsa settimana con Elina che ha 50 anni c'è anche il nipotino di due anni che la donna ha in affidamento definitivo dal 23 dicembre scorso in questo periodo durante tutte l'inchiesta le indagini che si sono susseguite per accertare appunto tutti i momenti del delitto il bambino è stato affidato alla famiglia di Carloni il deputato Mirko Carloni e ora è tornato nella sua patria di origine giriamo la pagina e vediamo una critica ebbene ancora lupus in fabula l'associazione ambientalista che insorge contro un progetto che è stato approvato dal comune quello della di realizzare un bosco all'aeroporto ma il posto secondo appunto lupus in fabula e il suo vicepresidente è sbagliato sul verde urbano l'amministrazione comunale sembra che non ne azzecchi una lo ha detto appunto lupus in fabula per quanto riguarda la piantumazione di 5.000 alberi avviate nei giorni prima di natale 5.000 alberi sono un bel un bel bosco che viene piantato nella zona dell'aeroporto lo sta facendo la società arbolia del gruppo snam nell'area del campo di aviazione la società ha messo a disposizione il progetto ai fondi il comune l'area ma non si poteva scegliere un luogo più sbagliato perché perché secondo appunto claudio razzi che il vicepresidente dell'associazione quest'area avrebbe dovuto rimanere a prato perché è il luogo di sosta di tanti uccelli migratori che amano gli ambienti prativi ovvero lo stiacino il cul bianco la cutretola il peviere dorato lo strillozzo eccetera insomma sono tanti uccelli cui nome magari non conosciamo perché insomma lo sono è conosciuto solo dagli specialisti comunque è un luogo la zona d'aeroporto con la sua vastità è un luogo privilegiato appunto per la sosta specialmente per gli uccelli migratori inoltre vi nedificano alcune specie anche piuttosto rare come la calandrella la vocazione dell'area non è di trasformarsi in un bosco secondo gli ambientalisti ma di diventare un prato stabile come lo era fino al 1995 poi essendo priva di alberi e costruzioni offre un affaccio meraviglioso della città verso l'entroterra insomma un metterci anche uno schermo si elimina una visuale che al momento è molto bella ma questo è solo dal punto di vista estetico dal punto di vista funzionale invece poi si fa un danno all'ambiente in modo particolare agli uccelli che li vivono e riposano in viale a Liglieri meno 35 posteggi è una delibera che è stata assunta dall'amministrazione comunale i lavori al via di febbraio si è parlato spesso anche nello scorso anno dell'intervento di viale Dante a Liglieri la via parallela viale adriatico in Sassonia per renderla più sicura dato che è una via molto trafficata e ha i parcheggi sia da una parte che dall'altra quindi la careggiata dove passa il traffico motorizzato è piuttosto stretta e quella via è molto trafficata anche da mezzi pesanti perché poi lì ci sono delle aziende vedi per esempio la Nucco Promo che ha bisogno di un traffico particolarmente intenso per il trasporto appunto delle vongole e a questo punto l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire di togliere i parcheggi da un lato della strada 35 parcheggi che dovranno essere sostituiti in un'area che ancora è da identificare nei pressi di viale adriatico ma ci sarà anche una pista ciclabile viabilità al via da febbraio la sperimentazione per la ciclabile sul lato monte definitiva da maggio e sarà realizzato anche un marciapiede per la sicurezza dei pedoni è stato trovato a Marotta un pescatore senza vita aveva 56 anni nella propria abitazione il corpo scoperto dal fratello dove abitava shock nell'ambiente della marineria si tratta di Massimo Pieroni aveva 56 anni faceva il pescatore era imbarcato su una vongolara a Senigallia e sembra che vivesse da solo quindi probabilmente un infarto oppure ci sono delle indagini in corso nessuna traccia viene sottovalutata dagli inquirenti sul posto una squadra di pompieri di Fano allertata dal 118 non sono ancora chiare le ragioni della tragedia comunque vediamo ora le pagine degli altri comuni vediamo che a Mondavio anzi diciamo meglio a Sant'Andrea di Suasa rivive la festa del Nino il Nino ritorna dopo il periodo della pandemia alla conquista dell'universo parallelo così dice il titolo e guardate il manifesto che quest'anno contraddistingue questa festa ci sono sempre c'è sempre giocato sui titoli e sui manifesti di questa festa che in realtà promuove i prodotti della norcineria ovvero i prodotti salumi tutto quello che deriva dal maiale la festa è stata introdotta dal 2003 quando fu raffigurato il maiale col bavaglino al collo sembra che andava a una festa in realtà la festa la facevano a lui e poi sono stati fatti tanti manifesti ce n'era uno con il richiamo al burlesque viene a fare il porco con noi nel 2011 oppure il Nino Pride del 2015 l'ex porco del 2016 il porkemon del 2017 il luna porche del 2020 insomma veramente si è giocato con tutti i nomi possibili per attirare l'attenzione su questa festa ma la realtà il nucleo, l'obiettivo è quello appunto di promuovere i prodotti che dal porco derivano e dal maiale derivano e sono veramente molto buoni però bisogna usarne con parsimonia a Urbino il 2022 è un anno intenso ora brindiamo con Imram e si parla del reparto di ostetricia anche dell'ospedale di Urbino che è molto noto per appunto l'attività di ostetricia il primario Leone Condemi fa un bilancio dei 12 mesi appena passati dalla figlia di Valentino alle nuove terapie e neanche il Covid ci ha bloccato si chiama Imram il primo bambino nato a Urbino che ha visto la luce alle 15 e 44 minuti del primo gennaio 2023 Imram è un nome straniero probabilmente la mamma sarà una immigrata ma come sono stati gli ultimi 12 mesi per l'ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Mesiricordia reparto guidato da Leone Condemi Intensi ha risposto il medico e con una nascita che ha fatto il giro del mondo quello di Giulietta la figlia della modella Francesca Sofia Novello e del campione mondiale del MotoGP Valentino Rossi al quale ho assistito assieme alla dottoressa Carboni e al dottor Trengia abbiamo avuto una rinomanza insomma che supera i nostri confini a marzo 2022 ho presentato in ospedale una nuova cura contro l'atrofia vaginale questa è una delle possibilità, delle opportunità che ha il nostro territorio per avere una specializzazione che altrove non si trova e poi qui prosegue l'articolo con il bilancio dell'attività di reparto a Fermignano si sogna un nuovo palace lo faremo vicino alla scuola è l'annuncio del sindaco l'area è quella di via Manzoni Fermignano dunque sogna un nuovo palazzetto dello sport più moderno adeguato per varie discipline e adatto a ospitare eventi sappiamo come siano importanti queste strutture sia dal punto sportivo ma anche dal punto sociale e anche dal punto degli eventi perché vi si possono organizzare molte manifestazioni nelle 2023 ai poveri con Passamano siamo a Fossombrone si parla di Caritas Carmine Barone spiega il progetto Caritas per il nuovo anno diamo orientamenti per lavoro sussidi e consulenza legale Carmine Baroni è uno che la solidarietà la fa di concreto e per prima cosa annuncia l'Ibam per fare donazioni è un centro che ha bisogno di sostegno da parte di tutti da parte dei cittadini da parte delle aziende per fare Caritas Caritas è il nome appunto di un'associazione benemerita che si impegna tutto l'anno per aiutare sono sempre più purtroppo le famiglie che hanno bisogno di sostegno e fare riferimento alla Caritas è il primo scalino che uno sale per avere un po' di assistenza ed ora parliamo della Befana perché la festa del 6 gennaio è molto vicina per la gioia dei bambini Befana a Urbania ecco l'anteprima tombola e tema al cinema lux la Befana si dice che è una festa per i bambini ma in realtà lo è anche per i grandi e non mancano dunque le iniziative anche per gli adulti il giorno della Befana comunque si comincia questa sera ci sarà un'anteprima con la festa nazionale della Befana di Urbania dalle 21 al cinema lux ci sarà una tombola a tema con protagonista la famosa vecchina poi alle 15.30 in piazza San Cristofaro di mercoledì 4 cioè domani e poi fino al 6 gennaio ci si immergerà in un contesto veramente suggestivo grazie alle migliaia di calze appese in ogni via e vicolo centinaia di Befana animeranno il borgo dell'antica Casteldurante Urbania la città dei duchi dei duchi di Urbino ci andavano in veleggiatura ma ci andavano anche così facevano l'alternanza con Palazzo Ducale di Urbino vediamo anche qualche pagina di Pesaro e vediamo un'interessante visita che ha fatto Ilaria Cucchi sappiamo che è una deputata oltre a essere la fratella del ragazzo che è stato trucidato malmenato e poi ucciso in realtà mentre era in carcere Ilaria Cucchi blitz nel carcere di Villa Fastigi detenuti in condizioni scioccanti la donna che si è battuta per la verità sulla morte del fratello e ora senatrice ieri era a Villa Fastigi persone trattate come carne da macello ha dichiarato non per colpa degli agenti ma di chi dirige la struttura quindi un'accusa ben precisa un blitz in piena regola Ilaria Cucchi che si è presentata ai cancelli del carcere di Villa Fastigi alle 11.30 di ieri mattina senza alcun preavviso intitola e dice il resto del Carlino ne è uscita tre ore dopo con lo sgomento negli occhi è un report tutt'altro che positivo detenuti trattati come carne da macello costretti a vivere in una struttura fatiscente, abbandonata dove funziona male persino il sistema della videosorveglianza ci sono veramente delle condizioni di vita che sono veramente degradate e invita il ministro Salvini a venire a Pesaro il ministro Salvini vuole addirittura ritirare i fondi alle carceri vuole tagliare i fondi alle carceri addirittura ai pasti degli agenti in realtà venire a Pesaro sarebbe un modo per far cambiare questo disegno che in realtà non si pone nell'ottica della rieducazione dei carcerati il governo gioca la partita contro l'incompiuta prima canna della guinza lavori in tre anni si consolida l'idea di intervenire di nuovo nella galleria della guinza insomma sembra che questa volta ci siamo dico sembra il condizionale d'obbligo perché molti sono stati e gli avvisi che poi sono stati disattesi le dichiarazioni che poi sono state smentite dai fatti ieri c'è stato un sopralluogo del viceministro Bignami con il presidente della regione Acquaroli alla guinza la gara si dovrebbe fare entro il 30 giugno grazie ai 150 milioni sbloccati dal CIPES sembra che ci sia una luce in fondo al tunnel ieri pomeriggio alla guinza si è apparsa la luce dei fanali di un pulmino con due cantonieri dell'ANAS assieme a loro c'era appunto il viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami e il presidente Francesco Acquaroli che hanno voluto percorrere in parte i 6 chilometri della galleria che unisce il territorio di Mercatello del Metauro con il territorio Umbro di San Giustino al fine di rendersi personalmente conto di quello che si deve fare e di qual è lo stato appunto del tunnel sembra che i lavori per lo scavo del primo tubo iniziati negli anni 90 siano stati costati 500 miliardi di lire mi sembra di lire però non sono euro quindi la cifra è giusta Onorevole Bignami ci siamo in titola fa la domanda appunto il giornalista ci siamo dice Bignami per la realizzazione della prima canna dovrebbero partire i lavori con la gara che confidiamo di espletare entro il 30 giugno a seguito dell'assegnazione sbloccata dal CIPES di circa 150 milioni garantiti insomma vedremo se queste dichiarazioni avranno poi un seguito ufficiale milioni di euro per due nuove palestre a Pesaro Basket City punta sull'impianto di Viera Marmera costerà 3 milioni e 200 mila euro mentre la cittadella del basket costerà veramente molto due sold out comunque tra nazionale sfide WL Virtus hanno rilanciato almeno a parole l'idea che Pesaro possa tornare ad essere la Basket City Pesaro è la città della musica è la città dei motori ma è anche la città del basket quindi queste sono tutte queste peculiarità queste valorizzazioni che poi contribuiscono a fare Pesaro città della cultura a livello nazionale nel 2014 e qua si saluta una signora si tratta di Peppa Bruzzesi mamma di Cristo Re si è spenta quasi cento anni una delle figure storiche della parrocchia del mare che ha visto crescere anche Massimo Ambrosini l'imprenditore Tomassini dice la sua semplicità resterà nei nostri cuori è un sentimento un ricordo che viene così espresso a nome di tutti tutti coloro che l'hanno conosciuta privati dettiamo noi le regole questa è una dichiarazione dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini all'indomani della nomina dei commissari dell'AST sappiamo che dal primo gennaio non c'è più l'azienda ospedaliera Marche Nord ma c'è l'AST l'azienda sanitaria territoriale che concilia l'assistenza territoriale con quella ospedaliera l'assessore regionale Saltamartini delinea i primi passaggi il budget sarà confermato poi tareremo le risorse sulla base dei bisogni scusate ebbene nella prossima giunta si farà un esame del bando ufficiale perché dopo dalla nomina dei commissari sappiamo che per l'AST di Pesaro Urbino il commissario è stato identificato in Maria Capalbo ma al commissario poi dovrà succedere il dirigente il direttore e quindi ci sarà una nuova nomina e sappiamo che la nomina di Maria Capalbo è un po' osteggiata è un po' controversa lo vediamo poi anche sugli altri giornali vediamo qui il Corriere Adriatico che proprio sulla vicenda del Capalbo dell'Accapalbo ha mostra dei dubbi mostra dei dubbi vediamo un po' se ritrovo l'articolo vediamo vediamo qua vabbè non lo trovo adesso comunque dopo ve ne farò menzione vediamo anche altre notizie tranchi e rami nel foglia vanno rimossi subito va alle foglie al sindaco Chielli scrive una lettera alla regione all'ANAS stanno intralciando il corso dell'acqua sotto il ponte di Montecchio sappiamo ora che una legge che è stata approvata dal Parlamento consente di raccogliere i rami e i tronchi che cadono nei fiumi e che spesso formano delle dighe che ostacolano il deflusso delle acque a questo punto passiamo passiamo per il Corriere Adriatico a partire dalla pagina di Fano e vediamo che sono stati affidati i lavori per la strada delle barche dovevano essere affidati entro il 31-12 la data pur in extremis è stata rispettata tra una sessantina di concorrenti l'ha spuntata l'azienda Pretelli di Urbino la volta non c'era proprio tempo da perdere la data era tassativa per non compromettere i 793 mila euro di finanziamento recuperati dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli con l'inserimento dell'intervento nel piano di sviluppo e coesione che doveva essere appaltato entro il 2022 non il piano ma quello che conteneva e quindi anche la strada delle barche l'affidamento alla Pretelli SRL è un'impresa urbinata che l'ha spuntata su un loto di una sessantina di concorrenti garantendo un ribasso di poco inferiore al 20% rispetto ad una base d'asta fissata a 468 mila euro che ha portato all'assegnazione tolto il 20% da 378 mila euro sono quattro mesi che ci vogliono per completare i lavori finalmente le barche invece di passare per molte strade cittadine con problemi per il traffico ma anche per la viabilità loro stessa potranno passare per il cavalca ferrovia di Viale Piceno attraversare la zona del bersaglio la zona dell'ex pista dei go-kart e poi imboccare Viale Ruggeri Viale Adriatico fino al porto questo un po' è il progetto che si sta realizzando anche il Corriere Adriatico parla dell'errore secondo lupus in fabola che la Giunta starebbe compiendo realizzando un bosco al campo d'aviazione dovrebbe restare un prato e poi vediamo una notizia di cronaca sequestrata la cocaina per capodanno in manette due corrieri del Napoletano è stato un blitz dei carabinieri che hanno intercettato tre etti di droga dopo la convalida però uno dei arrestati è stato rimesso in libertà e questo insomma è quello che desta sempre molte perplessità nei confronti dell'opinione pubblica in viaggio con la cocaina dal Napoletano verso San Costanzo una partita di droga destinata alla Movida dell'ultimo dell'anno rifornire la piazza di Fano due gli arresti ieri mattina l'udienza di convalida per un 68enne residente a Bosco Reale e un 42enne di Torre Annunziata nella sera del 30 dicembre i due erano a bordo di una Ford condotta dal 68enne quando tre auto dei carabinieri con i lampigianti li hanno fermati all'altezza di Marotta probabilmente avevano subodorato che in quella macchina c'era della droga e così è stato e vediamo a Isola del Piano si parla di Gino Girolomoni il grande anticipatore del biologico la transizione ecologica quella che passa dalle fonti energetiche ad esaurimento a quelli invece che non si esauriscono mai è stata anticipata proprio da questo visionario il visionario del biologico così viene ovviamente definito in senso positivo Gino Girolomoni digitalizzato l'archivio di Mediterraneo dossier una rivista che potrà essere ora vista e quindi ascoltata e quindi interpretata anche in internet vediamo le ultime notizie passiamo a Senigallia dopo dal porto alla Cesanella via le trappole le strade in sala trucco ecco il restyling entro i primi sei mesi del 2023 partono tutti i cantieri della viabilità senigallese e questa è una buona notizia e con questa buona notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandomi appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.